Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento il primo gioco da tavolo, il primo board game di Borderlands che provo onestamente in vita mia e che ci viene inviato da Asmod Italia, edizione italiana a cura di Asmod Italia, che io come sempre ringrazio di cuore per la copia e recensione fornita. Scusate lo vado a leggere perché il nome è un po' lungo. Si tratta di Borderlands, Mr. Torg, Arena of Bedessery, quindi già vedete un bel titolo che tra l'altro non è stato tradotto perché insomma Bedessery, tradurlo non sarebbe stato bellissimo da copertina di un gioco. Comunque è un gioco da tavolo cooperativo, quindi non c'è competizione, siamo tutti insieme, dove noi verremo chiamati come eroi classici dell'ambientazione di Borderlands, come abbiamo visto nel primo, nel secondo e nel terzo, ci sono personaggi presi un po' dappertutto, verremo buttati, catapultati, catturati dentro l'arena di questo Mr. Torg e dovremo fare delle missioni che potranno essere un po' alla, se vogliamo anche alla Zombicide, prese singolarmente o in una vera e propria campagna, in un gioco veramente veloce e con pochissime regole, secondo me all'altezza di tutti. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Borderlands Mr. Torg Arena of Bedessery è un gioco cooperativo, dove uno da uno a quattro giocatori collaborano per finire le missioni che ci sono dentro nel manualetto degli scenari, perché all'interno della confezione c'è anche un manualetto distaccato degli scenari che noi poi andremo a giocare. Quindi andremo a comporre la missione, per come vedete ora schermo dal libretto degli scenari, andremo a comporre la missione che poi potrà far parte di una campagna, se le volete collegare, fare una cosa più magari RP, gioco di ruolo, tutta quanta unita, e andremo a comporre la mappa. Andrà creato il mazzo degli incontri e soprattutto di come i nemici si muoveranno contro di noi, perché i nemici sono mossi da un'intelligenza artificiale a livello di regole che è molto semplice, ma comunque ve ne parlo a breve al momento del combattimento. Preciso subito, come detto Pocanzi, che qui dal gioco dai 14 anni in su io l'abbasserei anche di un paio di anni, perché forse è vero, sì, c'è un pochino di cose da leggere, abilità da applicare sulle carte, però il gioco è veramente semplicissimo. Abbiamo le schede dei personaggi, ognuna rappresentata ovviamente in campo da una miniatura, dove ciascun personaggio ha delle abilità particolari, magari è più bravo a combattere in corpo a corpo rispetto a chi sparare a distanza, o magari semplicemente ha anche un equipaggiamento differente, perché ciascuno di noi, ripeto sempre, mi viene la similitudine con Zombicide, avremo un equipaggiamento di partenza, che potrà essere un'arma da corpo a corpo, una mitraglietta, una pistola o qualcosa del genere, e ciascun personaggio ha la sua abilità speciale. Sulla scheda ci sono tre tipi di dadi, che sono il dado verde, il dado giallo e il dado rosso. Ognuno corrispondente ha un taglio differente, quindi quando si va a fare un'azione, ad esempio utilizzando il dado verde, è il più forte che avremo e il dado verde ci farà attirare un D12. Ad esempio, quando andremo a attirare il dado da 12 col D verde, che sarà quello più forte che abbiamo, sarà molto più facile, avremo molte più possibilità di superare una prova, o semplicemente attaccare un nemico, perché in questo gioco le armi hanno una gittata. Sulla scheda di ciascuna arma c'è una distanza, quindi anche lì sono riportati sempre questi colori. Verde, giallo, rosso, sembra il semoforo. Se un'arma ha gittata verde, vuol dire che può attirare fino a tre di distanza, tre caselle, tre esagoni di distanza. Se un'arma ha gittata gialla, ha due. Se un'arma ha gittata rossa, soltanto o nella stessa casella, o a casella di distanza uno. Quindi prettamente un'arma a corto raggio, o quasi di corpo a corpo. Di solito le armi da corpo a corpo, appunto, a meno che non siano anche dal lancio, ci hanno gittata rossa, quindi... o nella stessa casella o in quella adiacente. Si va a vedere quant'è, ad esempio, l'abilità di sparare del personaggio, che ne so, l'abilità di sparare del personaggio è tre. Vogliamo utilizzare il dado verde per attaccare quel mostro, perché magari quel nemico ha una difficoltà di essere colpito di sei, si prende il dado, corrispondente al colore, quindi se volete avere quasi, o comunque molte più possibilità di colpire, ma non di fare un critico, prendete il dado più alto. Si tira il dado verde, magari viene cinque. Ci sommiamo tre dell'abilità di sparare del nostro personaggio, cinque più tre, otto. La difficoltà del nemico va eguagliata o superata, quindi era sei. Lo abbiamo colpito e vediamo quante ferite c'ha il nemico. Se il nemico ha una ferita soltanto, è sconfitto. Se ce n'ha più di una, gli mettiamo un segnalino accanto, perché a parte di regole speciali, quindi come potrebbe essere un'arma che ha un bonus o qualcosa di strano, o sotto abilità speciali anche dello stesso oggetto, caratteristiche, ogni arma fa un danno. Quando invece il vostro personaggio subisce un danno durante il combattimento, perché prima si muovono tutti i personaggi, quindi noi tutti, magari ci si divide il turno prima tepa, quell'altro, comunque prima tutti gli eroi, e poi dopo per ultimi si attivano i mostri. I mostri attaccheranno sempre il personaggio che ha un token addosso di, tipo bersaglio, obiettivo, si sono incattiviti con lui, e quando un nemico attacca, si va a vedere sulla scheda del nemico che tipo di attacco fa, che ne so, punk, predone, corpo a corpo, ci viene il corpo a corpo, e ci sarà magari il simbolo del pugno, e magari un valore accanto, pugno e 5. Vuol dire che noi, per difenderci da quell'attacco, dovremo tirare sulla nostra abilità pugno, che sarebbe il corpo a corpo, con un dado scelto da noi, quindi, non lo so, il dado verde, tiriamo il dado verde, ci sommiamo la nostra abilità col pugno, e dobbiamo superare quella che ha scritto lui sulla carta, quindi se lui ha 5, bisogna fare col dado verde, più il nostro valore bonus della caratteristica, più del valore di attacco del nemico, per incassare il colpo. Se subiamo una ferita, una delle nostre caratteristiche diventa rossa, quindi se abbiamo 3 azioni, che sono blu, gialla e rossa, scusate, verde, gialla e rossa, e abbiamo utilizzato il dado verde, quel dado verde diventa rosso, quindi ne avremo uno rosso, due rossi e uno giallo. Quando li abbiamo tutti rossi, tiriamo un dado rosso per parare, e non riusciamo nella parata, siamo fuori combattimento, perché sotto il rosso non si può scalare. Finito il combattimento, poi andando avanti nella campagna, si possono spendere oggetti, perché i nemici abbattuti lasciano loot, per comprare un nuovo equipaggiamento, possiamo passare di livello, possiamo scegliere abilità nuove, devo dire la verità, a me come gioco, ricorda molto come meccaniche, Zombicide, ed è veramente velocissimo. Borderlands Mr. Torg, Arena of Bad Esseri, secondo me è veramente un gioco molto interessante, alla portata di tutti, non per tutti, ma non per cattiveria, perché comunque, ci potete far provare chiunque, però la tematica, sparatorie, Borderlands è un po', che non si prende mai troppo seriamente, insomma, ti devono piacere, ti deve piacere come ambientazione, non è il classico gioco di Exit, che dove metti metti fai giocare, però comunque, se avete amici, a cui piace il gioco cooperativo, fatto bene, un regolamento snello, gli piacciono magari i giochi della, anche della Kmon, tipo Zombicide, che ho citato molte volte, o semplicemente, gli piacciono anche i Dungeon Crawler, secondo me è un titolo, che vi farà divertire tantissimo al tavolo, e poi giocherete tutta quanta la campagna, perché poi c'è grande, ci sono anche degli scontri, delle boss fight, dei nemici molto più forti, quindi è interessante, ed è tutto collegato, a una storia, se non preso singolarmente, io ringrazio di cuore, Asmod Italia, per la copia fornita, passato assolutamente, a pieni voti, se ne volete ordinare una copia, come sempre, primo link in descrizione, in sovimpressione, dal nostro negozio sponsor, Gioco Libreria Simola, non soltanto al miglior prezzo, sul mercato, ma se andate sul catalogo, sul sito della Gioco Libreria Simola, e cercate il gioco, non c'è in lista, oppure, bollino rosso è, le copie sono finite a magazzino, mandate una mail al supporto, sempre tramite il sito, a Gioco Libreria Simola, e fateli presente, che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan, Gioco Libreria Simola, farà il possibile, per trovarvelo, se non ce l'è in lista, o ordinarne altre copie, anche se la finite, quindi il servizio è sempre impeccabile, non pagate le spese postali, per spese superiori a 79 euro, e usate sempre il nostro codice discount, Coridan 7, per avere uno sconto del 7%, e se lo ordinate, state fuori dall'Italia, in 48 ore vi arriva, state in Francia, lo ordinate, due giorni, ce l'avete a casa, quindi, Gioco Libreria Simola, è un servizio eccellente, perché vi trova, anche roba, che non ha in catalogo, quindi, se vi viene in mente, un gioco reperibile, ordinatelo, fate richiesta, perché ve lo ordina, anche se non lo vedete in catalogo, e usate lo sconto, ancora grazie a Dasmo d'Italia, e per me ragazzi, se siete fan di Borderlands, dei board game cooperativi, ma anche perché no, perché c'è anche un sistema di loot, anche dei dungeon crawler a potenziamento, fa per voi, ciao, alla prossima, se questo video ti è piaciuto, lascia un like, e clicca sulla campanella, per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche, e non perderti nemmeno, un video in uscita, primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre, di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram, e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch, mano a mano, troverete la programmazione aggiornata, con tutte quante le live del giorno, quindi guardatela sempre, perché ci sarà sempre, la programmazione aggiornata, mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social, perché sono sempre aggiornati, e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube, lo troverete sempre lì, ciao, alla prossima.